buongiorno ecco all'occasione del festival del lago organizzato della associazione tamra in partenariato con la compagnia azar e l'associazione urban king del senegal i festivalieri stanno arrivando all'aeroporto lì stiamo vendendo il gruppo musicale jambon casa nelle strade di di la grose facendo animazione adesso stiamo facendo il progetto grazie giorgio che abbiamo vinto questo progetto sarà wifi avrà qui per cinque anni quella della regione grazie ecco la ceremonia ufficiale di apertura del festival con la presenza del sindaco del prefetto e del colonello di niappe 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 gratitudine e satisfaccia che io vieno una volta di più portare a voi l'onorevole partenari di venire frate e sere il modo benvenuto del maire della comunità di l'onorevole partenari di torino con la popolazione di torino che è venuta qui per l'iniziativa per l'iniziativa per l'iniziativa per l'iniziativa qui vi facciamo vedere alcuni dei tanti gruppi musicisti artisti che hanno prodotto un grande spettacolo durante il festival per l'iniziativa Il nostro научo è www.mesmerism.it Subito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti